Noi siamo nati dalla volontà di Nagash, noi siamo stati condannati ad essere lucciole da lui, noi lo abbiamo segretamente rinnegato quando lui era completo in corpo e anima, noi bramiamo sopravvivenza, noi abbiamo fatto un patto tra noi stessi, noi cerchiamo per una cura, Nagash è debole ora. E le nostre azioni mostrano aperta e cieca soggioganza a lui, ma noi saccheggiamo per conoscenza, il nostro desiderio di libertà brucia quanto i nostri stessi corpi, se non anche di più, noi siamo la sua arma usa e getta, ma noi saremo il nostro stesso destino.